Tragedia in Sardegna dove nella serata del 30 dicembre una ragazza di 31 anni, Lisa Lusso, è stata investita e uccisa da un SUV mentre stava tornando a casa in monopattino. Nell'impatto purtroppo la giovane, deceduta sul colpo, i soccorsi del 118 si sono rivelati inutili per lei, non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell'ordine per stabilire l'esatta dinamica del tragico incidente. Lisa Lusso lascia un figlio piccolo e i genitori. Sulla dinamica indagano i carabinieri, l'automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e potrebbe aver travolto la donna per la scarsa visibilità. Grazie per la visione!